Una storia vecchia, un'indagine che conferma quanto già emerso in questi ultimi anni. Il trasporto, la logistica e la distribuzione delle merci nei porti di Palermo e di Termini Merese sarebbero controllate dalla mafia. In pratica dietro ogni container, ogni deposito di merci, ogni movimentazione di ciò che transita ci sarebbero gli interessi delle famiglie mafiose, in questo caso rappresentate dagli omonimi Antonino Spadaro di 56 e 64 anni, da Maurizio Gioe di 54 anni e da Girolamo Buccafusca, 55 anni, tutti di Palermo. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo. La Newport S.p.a. che nascerà la trasformazione delle compagnie portuali in società ha monopolizzato, secondo l'accusa, di fatto il trasporto, la logistica e la distribuzione delle merci nei due principali scali portuali dell'area palermitana, sino alla prima metà del 2011, quando nel mese di giugno, in seguito all'intervento della Prefettura di Palermo, ha ceduto ai propri rami d'azienda due nuove società, la Portitalia S.R.L. e la T.C.P., Società Cooperativa Responsabilità Limitata. La società aveva costituito un network nei punti strategici del Mediterraneo, come i porti di Savona, Genova, Palermo, Termini Merese e Valencia in Spagna. Il cambiamento della ragione sociale, di fatto, non ha mutato, affermano i magistrati, la reale composizione dei titolari delle quote azionarie, con riferimento a quelle persone coinvolte a vario titolo in vicende di mafia. La Newport aveva tra i soci, anche lavoratori, numerosi pregiudicati per vari reati, tra cui Antonino Spadaro, presunto affiliato della famiglia mafiosa della Calza, l'omonimo Antonino Spadaro, denunciato per associazione a delinquere, e girolamo Buccafusca, affiliato alla famiglia della Calza, con precedenti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso, oltre che di estorsione. Sono state sequestrate oggi le quote sociali e i beni aziendali delle società, per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro.